Saeed Jalili, segretario generale iraniano del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, è da qualche mese il capo negoziatore di Teheran sul programma nucleare. Mentre l'Iran potrebbe subire nuove sanzioni dell'ONU per non aver ottemperato alla richiesta di sospendere l'arricchimento dell'uranio, Jalili risponde alle domande di Euronews. Buonasera e benvenuto a Euronews. Cosa ne pensa della diffidenza dell'Occidente sulla questione della capacità nucleare iraniana? È piuttosto chiaro oggi che questi paesi stanno solo cercando di trovare pretesti per prendere misure contro l'Iran. Gli stessi paesi avevano un'ottima cooperazione con il dittatore iraniano all'epoca del vecchio regime. Avevano firmato un accordo nucleare con quel regime. Poi la dittatura è stata abbattuta dal popolo iraniano e allora hanno cominciato a imporre sanzioni contro il nostro paese e la nostra gente. La parola chiave è stabilità. La risposta è la stabilità. L'Iran non ispira fiducia agli altri paesi. Pensiamo e crediamo che la comunità internazionale sostenga la posizione iraniana sulle sue attività nucleari pacifiche. Più di 120 paesi non allineati hanno appoggiato la posizione iraniana, il suo programma pacifico e i suoi diritti secondo il programma energetico nucleare. Solo due o tre paesi pensano di essere l'intera comunità internazionale. Persino il rapporto della CIA ha ammesso che l'Iran ora sta portando avanti un programma nucleare pacifico. E a proposito dell'esistenza di Israele? Noi crediamo che l'occupazione e la coercizione non danno legittimità. Tutto deve essere determinato da un processo democratico. Questa è l'unica soluzione. Se il risultato di un processo democratico è la cancellazione di un'entità, il problema è di quell'entità. Se questa è la sua opinione sull'esistenza di Israele, di questa entità come l'ha definita, non pensa che alcuni paesi che sono amici di Israele, come gli Stati Uniti o alcuni paesi europei, non daranno fiducia all'Iran mentre sta cercando di costruirsi una capacità nucleare, anche se l'Iran dice che è a scopo civile? Abbiamo sempre detto che il territorio palestinese appartiene alla gente che vive là, compresi gli ebrei, i cristiani e i musulmani, senza differenze. E tutte le persone che sono state espulse dal territorio palestinese devono avere il diritto di ritornare nella loro patria. Questa gente deve avere l'opportunità di partecipare a un processo democratico di autodeterminazione e qualsiasi sia la decisione deve essere rispettata. Non spetta a me, a lei, ad altri paesi decidere per loro. Perché si sentono in pericolo per una proposta democratica? Perché pensa che sia importante per l'Iran andare avanti con l'arricchimento dell'uranio? Non è importante per noi, fa parte dei nostri diritti secondo il Trattato di non proliferazione. Ne abbiamo certi doveri e certi diritti. Dobbiamo rispettare i nostri obblighi e allo stesso tempo godere dei nostri diritti nel quadro del Trattato. La domanda è, perché questi paesi vogliono privarci dei nostri diritti? Un paese con una limitata capacità nucleare, sempre in ambito civile, può importare uranio arricchito dall'estero, dalla Russia, nel caso dell'Iran. Sarebbe anche meno costoso. Quindi perché avere una tecnologia nazionale iraniana per l'arricchimento dell'uranio? La ragione più importante è che avremo una tecnologia nazionale. Stiamo sviluppando una tecnologia nazionale nel nostro paese. In base ai nostri programmi ventennali di sviluppo, dobbiamo produrre 20.000 megawatt di elettricità dalle centrali nucleari. Per avere questa capacità abbiamo bisogno di costruire almeno 20 centrali nucleari nei prossimi 20 anni. E per ognuna di esse dobbiamo investire miliardi. Poi che garanzia avremmo di ricevere combustibile per queste centrali da paesi che ci hanno persino negato aerei civili e pezzi di ricambio? Questa è una domanda importante. Bisogna sapere qual è il livello di arricchimento nel nostro paese. Le centrifughe sono un certo numero. Quanto combustibile pensa che possiamo produrre con quelle centrifughe adesso? Anche se moltiplicassimo per 10 il numero delle centrifughe, non sarebbe sufficiente per fornire combustibile a una sola centrale nucleare. Pensa che la questione del nucleare possa essere oggetto di una sorta di negoziato complessivo con gli Stati Uniti sulla situazione in Medio Oriente? Sì, non c'è problema per questo. Ma il vero problema non è tenere colloquio negoziati. Il problema è l'approccio che dovremmo avere per ogni colloquio in futuro. Quando due parti dialogano, la domanda è come dialogano. Come due amici, due partner, due rivali o due nemici? Cosa pensa del cambiamento da parte della Germania e della Francia? Perché hanno cambiato atteggiamento nell'ultimo paio d'anni, non crede? In proporzione al loro atteggiamento vedranno i risultati e i frutti delle loro politiche. Questi paesi possono aver cambiato idea in base alle loro politiche, ma anche al fatto che le loro aziende e le loro attività economiche sono diventate meno presenti nel nostro paese. L'Iran è un paese molto grande con enormi risorse. Abbiamo un alto livello di scambi economici con la maggior parte delle nazioni. Attraiamo sempre più investimenti nel nostro paese. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti.